Stai facendo, sto scendendo! Si, mi viene un attimo, ti piace vedere una cosa! Ah, perfetto! Oh, Ale! Oh, si! Portami quella roba da giù! Quella roba? Quella di prima! Ah, aspetta eh! Dai qua qui, guarda! E' tutto! Si, andate a trovarle qua specifico della situazione che non è mai diffusa in Italia, ossia questa dimissione dell'infizio della cultura. Quindi da nord al sud non c'è città che non abbia il suo teatro abbandonato, il suo cinema ha diffuso i bagni, il suo appunto, come dire, il museo, che ormai è diventato il nostro. Quindi sicuramente il nostro primo passo è soprattutto provare a capire questa situazione che deve veramente rappresentare il suo nome.